SOS Carte d'identità. A Vicenza i cittadini protestano perché l'unico modo per ottenere il documento è prenotare un appuntamento online con lo sportello comunale. Ma questa è un'impresa a quanto pare quasi impossibile. Sì perché come abbiamo documentato compare un messaggio che avverte che tutti gli appuntamenti disponibili sono già prenotati fino a 90 giorni. Un messaggio che oggi mostriamo direttamente all'assessore competente Valeria Porelli. Sì è vero nel senso che tutti gli slot sono occupati fino a gennaio. Questo perché si riesce a prenotare. L'assessore ci fa presente che se c'è il tutto esaurito è perché si riesce a prenotare. E ha ragione ma il problema è che ogni giorno entrano pochi appuntamenti mentre la maggior parte resta esclusa e si vede respinta. Insomma sarebbe il caso che il comune apra ulteriormente le agende oltre i 90 giorni per dare risposta a una maggiore fascia di cittadini. Allora innanzitutto abbiamo già ampliato l'agenda perché prima era solamente a 60 giorni e oggi si possono prenotare appuntamenti fino a 90 giorni. Viste le numerose richieste stiamo ipotizzando e stiamo valutando di aprire ulteriormente le agende penso fino a un massimo di sei mesi in modo che poi il cittadino che si ritrova con la carta d'identità in scadenza possa prenotare con anticipo l'appuntamento. Per chi ha un'urgenza comprovata però a quanto pare c'è una strada parallela più veloce. Basta rivolgersi a questo indirizzo e-mail. ufanagrafechiocciolacomune.vicenza.it dove il cittadino può richiedere un appuntamento urgente per esigenze documentate. Faccio un esempio. Chi smarrisce la carta d'identità, chi ne subisce il furto, chi deve partire, chi deve fare determinate istruttorie presso l'Inps piuttosto che la banca, piuttosto che degli atti notarili, allega la carta d'identità scaduta e manda un'e-mail all'ufficio anagrafe all'indirizzo che ho appena detto. Per gli anziani infine c'è una strada semplificata. Basta telefonare all'ufficio URP e l'ufficio URP darà le indicazioni complete delle modalità di prenotazione della CIE che possono riguardare sia di rivolgersi alle edicole convenzionate, perché ce ne sono 16 in città, oppure in caso di impossibilità a recarsi nelle edicole convenzionate, prenderanno il nominativo e lo comunicheranno direttamente loro all'ufficio dell'anagrafe. Bene, attendiamo che, come promesso, il Comune allarghi l'agenda degli appuntamenti per fare la carta d'identità oltre i 90 giorni. Intanto la questione non finisce qui ma continua.